Quella che è vicina a me, dove vai? Dove vai? Dove vai? Signore, ha un po' di... che ci volevi fare? Si innamorava, quindi l'amore fa anche vedere le stelle, sentire. Succede, 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 succede. Dove vai? E la signora mi ha chiesto, ma questa chi era? Vogliamo dire chi sei? Mi chiamo Rita Mancuso, ho 18 anni e vengo da Palermo. L'età non te l'hanno chiesta, comunque viene da Palermo. Vabbè, ora poi anche con l'applauso, hai visto, ti puoi ritirare, perché va dove vai? Resta qua vicino a me. Ecco, sono giovane, le vogliono più forti, io sono deboli, che ci posso fare? Non siamo venuti da soli. Però c'è un'altra che poi è la conduttrice, e la chiamo subito, lei è Aurora! Buonasera, mio carissimo, tre fontane, mi siete mencati da morire. Mi sono mancata, io sono buona dell'anno scorso. Si. Le mie ragazze! Beh, si diventa che ho voglia di for festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo, il cielo, il cielo, il cielo, il sole è nostro. Voglio la musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna del mare, partire e tornare senza sapere. Andata senza ritorno, di seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te camminare fino ad Ancon, passando per l'onda d'Aroba fino ad Ancon, cercando te. Sulle mani, ragazze! E lo vuole la mano, perché senza la mano non dobbiamo andare avanti. Ragazze, salutiamo questo magnifico pubblico, senza le spalle. Con la manina, ciao! Buonasera Campobello, da me, da Aurora, Rita e tutto lo staff di questa sera. Ora io li mando a spogliarvi, però non venite nute. Veniamo, dove vai Aurora? A prendere la mia carpina. Non c'è bisogno.